Musica Le 18.34, buon venerdì sera dagli studi di TG2000. Una bambina di appena 4 anni è morta a causa di un'infezione provocata da un'otite, probabilmente sottovalutata dai medici. Questa brutta storia arriva da Brescia. La procura ha aperto un'inchiesta al momento contro i gnoti. Siamo allibiti, non è stato fatto il possibile, le parole del parroco che conosce la famiglia. Pierluigi Vito Ciao piccolo dolce angioletto. È il saluto su Facebook della scuola dell'infanzia di Gottolengo a Nicole, la bimba di 4 anni morta nel pomeriggio di ieri in seguito alle complicazioni di un'otite non curata. Una tragica storia che inizia in questo paesino del Bresciano un mese e mezzo fa, quando la piccola comincia a essere affetta da febbre e dolori al collo. Dopo una visita dal pediatra, i genitori avevano portato la figlia al vicino ospedale di Manerbio, dove i medici, dopo un primo intervento, non avevano ritenuto necessario un ricovero. Col ritorno dei dolori, stavolta la mamma e il papà si erano rivolti all'istituto ospedaliero Poliambulanza di Brescia. Anche qui niente ricovero, ma i dolori e la febbre non passavano. Infine, sabato 31 marzo, la famiglia porta Nicole agli ospedali civili, sempre a Brescia. Qui i medici hanno disposto il ricovero d'urgenza, viste le condizioni, che purtroppo erano però arrivate a una criticità estrema. Fino a che ieri il cuore di Nicole si è fermato. Quel cuore per il quale i genitori hanno dato l'autorizzazione all'espianto, al pari di altri organi, con la speranza che possano aiutare altri bambini a vivere. Purtroppo è una di quelle vicende che non dovrebbe mai capitare. È una situazione che veramente lascia libiti, lascia confusi. L'amarezza di constatare che non si è fatto tutto quello che si doveva e si poteva soprattutto fare. E mentre tutta la cittadina di Gottolengo piange Nicole, due inchieste sono partite. Quella penale della procura di Brescia e quella disposta dal Ministero della Salute, che ha inviato una commissione di esperti dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, carabinieri del NAS e ispettori ministeriali. Un altro dramma, un altro bambino morto, ancora più piccolo di Nicole, di soli dieci mesi. La tragedia questa volta è avvenuta nell'ospedale Garibaldi di Catania, stamattina per complicanze legate al morbillo. Era stato ricoverato ad Acireale, trasferito da due giorni nella struttura sanitaria del capoluogo Etneo, in seguito all'aggravarsi delle condizioni respiratorie e cardiocircolatorie. Sul caso è intervenuto il direttore del reparto di rianimazione dell'ospedale di Catania con queste parole. Il tragico evento occorso al piccolo paziente che non era nell'età da poter essere vaccinato e quindi ha contratto l'infezione da chi vaccinato, deve essere di monito affinché tutti capiscono che vaccinandosi si protegge non solo se stessi, ma tutta la comunità. Il 6 aprile di 9 anni fa la vita all'Aquila si è fermata. Il terremoto delle 3.32 ha distrutto il capoluogo abruzzese e ucciso 309 persone. I 309 rintocchi della campana della Chiesa delle Anime Santa in Piazza Duomo stanotte, alla stessa ora in cui c'è stata la prima scossa, hanno ricordato le vittime. Clara Aia Tosti. E' come se fossero passati 100 anni, è un periodo lunghissimo. Erano le 3.32 del 6 aprile 2009. L'Aquila si fermò, ferita. 309 le vite perdute tra le macerie di un terremoto forse è annunciato. Anche ieri sera una fiaccolata le ha ricordate. L'occasione per fare il punto nel capoluogo abruzzese. La città è ancora in ginocchio, purtroppo. Questa fiaccolata è un dovere per noi aquilani, credo, nella memoria di chi non c'è più. Certo, quello che mi pare più doloroso è che le persone non ci sono. Ci sono tante cose che sono rimaste in sospesa e trascinate. In testa al corteo, come ogni anno, lo striscione dei familiari delle vittime e le foto degli otto ragazzi morti nel crollo della casa dello studente. Si cerca ancora giustizia per loro e la rinascita, soprattutto per il centro storico. E sono i giovani i primi a dare il buon esempio. Usciamo il sabato in centro storico, anche semplicemente per andare a fare una birra in quei pochi locali che ci sono, per dare fiducia innanzitutto ai commercianti e soprattutto perché riteniamo che la città va vissuta dal centro. I cantieri sono partiti da tempo, il 90% delle case nella città non storica è stato ripristinato, ma ai 21 miliardi stanziati finora bisognerà aggiungerne altri 4 per ultimare la ricostruzione. Per il centro si dovrà attendere ancora il 2022. L'Aquila in Monamanet salda rimane come nel suo motto. Siamo alla politica, giornata di riflessione per le forze politiche del nostro paese dopo che il primo giro di consultazioni al Quirinale per la formazione del nuovo governo si è risolto con un nulla di fatto. Il servizio di Augusto Cantelli. È il momento del dialogo, del confronto, quello chiesto dal Presidente della Repubblica al termine del primo giro di consultazioni. Un percorso necessario, seppur impervio, nel centrodestra dopo le divisioni di ieri palesate nella loggia della vetrata con Salvini che apre i 5 Stelle e Berlusconi che invece li attacca, oggi è tornato il sereno. E' lo stesso leader del Carroccio a chiedere al Cavaliere e alla Meloni di andare insieme al Colle la prossima settimana per il secondo round di incontri, invito accolto. Centrodestra, compatto per dialogare con i 5 Stelle, l'obiettivo di Salvini, condiviso anche dal governatore della Liguria Totti, da sempre pontiere tra Lega e Forza Italia. Mentre il capogruppo al Senato Bernini dice no a chi mette veti. Forza Italia non può e non vuole fare ipotesi di governo con forze che pongono veti paralizzanti mettendo in secondo piano i bisogni e le emergenze degli italiani. L'apertura del leader pentastellato di Maio provoca tensione anche all'interno del PD alle prese con l'elezione del nuovo segretario nell'assemblea del 21 aprile. Una equivalenza sostanzialmente tra l'alleanza con il PD e quella con la Lega. Evidentemente c'è un serio problema di proposta programmatica. Dialogo difficile dunque, ma si andrà avanti in attesa di tornare al colle, magari con idee un po' più chiare. Gli esteri sulla striscia di Gaza al confine con Israele sono ripresi gli scontri nel secondo venerdì della grande marcia del ritorno organizzata dal movimento islamico di Hamas. 4 i palestinesi morti solo oggi, tra le vittime anche un sedicenne, circa 250 i feriti. Gli scontri alla barriera sono scoppiati dopo che i soldati israeliani hanno sparato contro i manifestanti palestinesi che a loro volta hanno incendiato alcune gomme per creare una cortina di fumo. Sin da stamattina, prima che iniziassero gli scontri, le immagini le stiamo vedendo, l'Ufficio delle Nazioni Unite per i diritti umani aveva chiesto a Israele di assicurarsi che le forze di sicurezza non utilizzassero una forza eccessiva contro le migliaia di manifestanti. Leonardo Postati adesso ci parla di Alfie Evans, il bambino di 23 mesi ricoverato in un ospedale di Liverpool per una malattia cerebrale grave e sconosciuta. I tribunali e i medici vogliono staccare la spina dei macchinari che lo tengono in vita, i genitori si oppongono. Papa Francesco in un tweet ha invitato a fare tutto il necessario per il piccolo e ad ascoltare la profonda sofferenza dei genitori. Speranza e rassegnazione sono i sentimenti che alimentano l'esistenza dei genitori di Alfie. Il piccolo di 23 mesi ricoverato all'ospedale di Liverpool per una malattia cerebrale devastante per la quale non esiste nemmeno una diagnosi esatta ma solo riferimenti a patologie neurologiche considerate degenerative e inguaribili. Tutti i tribunali interpellati hanno autorizzato i medici a staccare la macchina che tiene in vita il bambino. Solo nelle ultimissime ore si è aperto uno spiraglio e sembra che l'ospedale stia prendendo in considerazione. La richiesta della famiglia di trasferirlo altrove, forse in Germania, forse in Italia, al bambino Gesù di Roma, una speranza alimentata anche dalle parole di Papa Francesco che pochi giorni fa via Twitter ha invitato a pregare per Alfie e per i suoi genitori con la speranza, ha scritto il Papa, che possa essere fatto tutto il possibile per aiutarli. Prego per Alfie, per la sua famiglia, per tutte le persone coinvolte, ha concluso Francesco. Intanto, nelle ultime ore, secondo i genitori, il piccolo darebbe segni di miglioramento, si muove e apre gli occhi rispondendo agli stimoli. Difficile dire dove sia il confine tra la lecita speranza dei genitori e un quadro clinico drammaticamente compromesso. Come nel caso di Charlie Gard e di Jaya Astrup, gli altri due bambini ai quali è stata staccata la spina violando il desiderio della famiglia, lo Stato, attraverso la Suprema Corte di Londra, ha deciso di porre fine a queste esistenze. Un'opzione che i genitori non vogliono in alcun modo contemplare e contro la quale si battono oramai da mesi. Rientriamo in Italia, in Calabria, con la cronaca. È stato arrestato a Condo Furil, boss Giuseppe Pelle. Era latitante da due anni ed è noto per essere capo strategico e membro dei vertici dell'Andrangheta. Beatrice Bossi. Quando gli agenti della polizia hanno fatto irruzione, Giuseppe Pelle stava addormendo vestito sul divano. Mi arrendo, non sono armato, ha detto agli uomini in divisa che lo hanno accerchiato nella notte. E neanche le altre persone presenti in casa al momento del blitz, le cui posizioni sono ancora al vaglio, hanno opposto alcuna resistenza. A niente sono serviti gli uomini sentinella che circondavano la sua abitazione. A poco è servito nascondersi in una zona completamente isolata. Siamo nei pressi di Condo Furil, in provincia di Reggio Calabria, non distante da San Luca, dove le strade sono mulattiere, la vegetazione si fa sempre più fitta e la spromonte diventa un bunker naturale. Con l'operazione di questa notte possiamo dire che la stagione dei grandi latitanti ormai è sostanzialmente conclusa. Il senso di dominio e di impunità che per tanti anni, per tanti decenni, la latitanza ha consentito di dare all'Andrangheta, può dirsi cessato. Di 58 anni, fuggiasco dal 2016, Giuseppe Pelle è il tredicesimo latitante arrestato negli ultimi tre anni. Gli inquirenti lo considerano uno dei vertici dell'Andrangheta, il reggente di uno storico clan di San Luca, quello più sanguinario della criminalità organizzata calabrese. Secondo i magistrati, Pelle non si limitava a dettare le strategie criminali ed economiche, ma anche quelle politiche. Su di lui già pendeva un mandato di cattura, più un residuo di pena di due anni e cinque mesi per una precedente condanna per associazione mafiosa. Spostiamoci a Bardonecchia, al confine con la Francia, dove ancora critica la situazione migranti, ma la cittadina si dimostra solidale nei confronti dei profughi che tentano di passare la frontiera. Domani, intanto, a Torino, i funerali della donna nigeriana incinta, morta in ospedale dopo essere stata respinta con il marito dalle autorità francesi perché i loro permessi di soggiorno erano scaduti. L'inviato Vito Dettor. Il sogno di raggiungere la Francia per tanti migranti provenienti dall'Africa passa da Bardonecchia. Molti di loro sono giovanissimi, minorenni. Il Comune ha messo a disposizione un locale della stazione ferroviaria per non lasciare nessuno al gelo. Un piccolo dormitorio, la chiamano la stanzetta. Ha predisposto un servizio di informazione per spiegare ai migranti i rischi di un viaggio pericoloso in montagna, nella neve. C'è anche un presidio medico H24 gestito dalla ONG Rainbow For Africa. E poi, tutti i giorni, c'è sempre qualcuno di Bardonecchia che entra nella stanzetta per portare qualcosa. Anche la carita sparrocchiale è molto attiva. I volontari sono in stazione, sette giorni su sette, una presenza voluta da tutta la comunità di Bardonecchia. Quando chiede, la Caritas chiede, e la popolazione di Bardonecchia risponde. Sanno che abbiamo bisogno di giacche e ce le portano. Abbiamo bisogno di calze e ce le portano. Bardonecchia risponde a tutte le richieste della Caritas. Poche settimane fa, la polizia di frontiera francese ha respinto e quindi riaccompagnato a Bardonecchia una nigeriana incinta. L'hanno lasciata proprio su questo piazzale, davanti alla stazione, al freddo, nonostante avesse dei forti dolori. I funerali della donna si celebreranno domani a Torino. Il bimbo, nato gravemente prematuro, è ancora ricoverato in ospedale. C'era il nostro mediatore che prestava già l'attività presso la stanzetta e ovviamente si è reso conto comunque della situazione di disagio che aveva questa signora perché comunque aveva problemi respiratori, comunque dolori all'addome. L'hanno lasciato davanti alla stazione senza dire niente a nessuno. Senza dire niente a nessuno. E veniamo all'allarme lanciato dall'autorità garante per l'infanzia. Fra gli adolescenti crescono i disturbi psichici, i casi patologici sono in aumento del 7% l'anno e spesso non vengono curati. Il punto con Alessandra Camarca. A seguire il parere della psichiatra Cinzia Sarlatto. Bambini desiderati ma complicati, bambini abbandonati in assistenza ai servizi sociali, ragazzini dimenticati negli istituti, giovanissimi allontanati da casa, minori non accompagnati che necessitano di sostegno psicologico. Emergenza autentica e un grido d'allarme che nessuno ha raccolto, quello lanciato nei giorni scorsi dall'autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza nel dossier la salute mentale degli adolescenti. Uno studio che per la prima volta in modo circostanziato tratte già un problema che si vorrebbe dimenticare, tanto è scomodo, imbarazzante e complesso. Vale per i ragazzi italiani vittime di disgregazioni familiari, di bullismo, disabilità, dipendenze varie e sindromi da videogiochi, ma sempre più spesso anche per gli stranieri portatori di traumi di vario tipo. La società italiana di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza spiega nello studio che le richieste aumentano al 7% l'anno, ma che solo la metà di chi avrebbe bisogno di assistenza riesce ad accedere ai servizi territoriali. Vale per le regioni del sud, ma anche per una città come Milano, dove non esiste un reparto ospedaliero dedicato. Si rimedia con i reparti infantili oppure con quelli per adulti, ma le difficoltà sono facilmente immaginabili. E poi ci sono le sofferenze legate alle adozioni a rischio. Un terzo dei ragazzi in arrivo da adozioni internazionali presenta disturbi psichici. Trascurare la sofferenza mentale di un adolescente, dicono le psicologi, che hanno redatto lo studio, vuol dire ritrovarsi tra qualche anno con un adulto problematico che poi, nel caso di un immigrato, finirà per trovarsi in situazioni a rischio e di cui poi dovrà farsi carico la società. A noi è evidente il fatto che ci sia questo aumento esponenziale seguiamo insieme alla mia equipe ragazzi dai 15 ai 18 anni, quindi proprio in un'area evolutiva molto delicata, dove tra l'altro è facile che si incappi nel dubbio se il problema che magari i genitori stanno verificando o anche gli insegnanti a scuola sia dovuto alla difficile età di passaggio, che è quella propria della pubertà, della preadolescenza e dell'adolescenza, oppure se realmente alcuni comportamenti dei ragazzi possano manifestare un disagio un pochino più importante. Abbiamo aperto da poco un centro lì al Sant'Andrea, quindi circa sei anni fa, a pazienti zero e ora le nostre liste d'attesa purtroppo sono troppo lunghe, troppo lunghe ai me. Quali sono i problemi di questi ragazzi? Lei mi diceva ansia, stress e come si manifestano? L'ansia è quindi soltanto il campanello d'allarme. La maggior parte dei ragazzi che arrivano da noi hanno quasi tutti già abbandonato la scuola o hanno un momento di distacco, di assenze prolungate, quindi noi tentiamo anche un reinserimento in collaborazione con la scuola. Però è ovvio, come diceva l'articolo che ho letto stamattina sull'Avvenire, le risorse sono pochissime, e l'attenzione estremamente bassa per un argomento e per una problematica che invece dovrebbe riguardarci tutti. E secondo me proprio come cittadini, visto che sono i nostri adulti di domani, no i ragazzi? E siamo alla liberazione di Mauro Donato, il fotoreporter torinese detenuto per circa un mese in Serbia dove documentava la vita dei profughi. Era stato arrestato con l'accusa, rivelatasi poi infondata, di aver rapinato e ferito a coltellate tre afghani. Le parole del fotoreporter nel servizio di Marco Bergamaschi. Un applauso alla conferenza indetta dalla Federazione Nazionale della Stampa accoglie il rientro in Italia di Mauro Donato, il fotoreporter torinese detenuto dal 16 marzo in carcere in Serbia. Donato era nel paese insieme al collega Andrea Vignali per documentare la vita dei profughi e le attività degli operatori umanitari lungo la Balkan Route. Ieri, mentre si diffondeva l'ennesimo appello per la sua liberazione, Donato è stato scarcerato dopo 21 giorni passati in prigione con l'accusa di aver rapinato tre profughi afghani, anche se proprio loro e il collega lo avevano scagionato. L'azione di sensibilizzazione dell'autorità serbe, condotta dall'ambasciata e dal Ministero degli Esteri, fa sapere la Farnesina, ha consentito il rilascio di Donato. Stanco ed emozionato, Donato ringrazia chi gli è stato vicino, non sapevo perché ero detenuto, è stata un'esperienza durissima, aggiunge, che spero di non rivivere mai più. Io avevo dei verbali in cirillico, i miei verbali sono stati tutti scritti in cirillico e mi è stato chiesto di firmare dei verbali in cirillico. Vi assicuro che firmare un verbale in cirillico senza sapere qual è il tuo capo di imputazione e soprattutto quali sono le cose che ti vengono contestate è difficile da accettare e soprattutto da metabolizzare. Ringraziamo voi, dice il Presidente della FNSI Giulietti e i due colleghi e tutti i giornalisti che come voi amano la libertà e per questo partono per illuminare realtà oscurate. Oggi siamo qui per festeggiare il vostro ritorno, aggiunge, ma anche per ribadire che saremo sempre al fianco di chi si mette in gioco e spesso rischia per svolgere il dovere di informare. Cambiamo argomento, parliamo adesso di uno dei cibi più amati della tradizione gastronomica ebraico-romana, ossia il carciofo alla giudia. La prelibatezza in questione è finita sotto accusa, pensate, del Gran Rabbinato di Israele. Sentite perché, con Marco Burini. Avete mai assaggiato un carciofo alla giudia? È qualcosa di divino. E speriamo di non essere blasfemi nel dirlo, visto che negli ultimi giorni attorno a questa squisitezza è in corso una disputa non banale. Il Gran Rabbinato di Israele l'ha dichiarata non kasher, cioè non conforme alle regole di preparazione dei cibi secondo la Torah e il Talmud, che gli ebrei osservanti seguono con scrupolo. Basta vedere i preparativi dei giorni scorsi per la cena di Seder, che inaugura Pesach, la Pasqua. Un carciofo alla giudia non genuinamente giudaico? E perché mai? Il cuore dei carciofi è pieno di vermi, non c'è verso di pulirlo, fanno sapere da Israele. E siccome la maggior parte degli insetti non è kasher, anche il piatto simbolo della cucina ebraica romana non può esserlo. Gli ebrei di Roma non l'hanno presa bene. Ariel Tohaaf, figlio dell'indimenticabile Rabbino Elio, ha obiettato che a Roma i carciofi si trovano a ogni Seder, perché la loro forma circolare richiama la continuazione della vita. Altri hanno fatto notare che la varietà di carciofo usata impedisce ai parassiti di annidarsi. Infatti, il tipo usato in questa ricetta è la mammola, senza spine, che viene fritta e ripassata nell'olio bollente, come si vede in queste immagini di uno storico locale del ghetto. Una ricetta solo apparentemente semplice, come solo apparentemente banale, è la questione. Certo, i leoni da tastiera si sono subito scatenati. Questi ebrei, ma più in generale chi segue ancora i dettami della religione, retrogradi, patetici, fuori dal mondo, si accapigliano sulle minuzie. Magari sono gli stessi che compulsano febbrilmente le etichette per controllare qualità e provenienza dei prodotti. Ma Cacher non è un bollino di qualità, è un rito secondo la legge. E solo chi osserva fino in fondo la legge può superarla. Magari addentando un carciofo alla giudia e sorridendo di piacere, non di schermo. È il momento del nostro TG Post, come tutti i venerdì dedicato al cinema. Fabio Falzone ci parla oggi di un film veramente per tutta la famiglia. Si chiama Quanto Basta con Valeria Solarino. Buona visione, vi lascio alla TG Post, poi attenti al lupo, noi ci vediamo alle 20.30 con tutti gli aggiornamenti.